In questo numero, la Camera approva il decreto vaccini, è legge, la FIMG, ok del governo sui medici fiscali, ora l'accordo ottimizzi i servizi, primi embrioni umani geneticamente modificati in USA. E ancora, l'esperta dell'AIFA, i vaccini usati in Italia sono sicuri, 12,2 milioni di italiani rinunciano alle cure, ma per il Ministero della Salute i dati Istat contraddicono il Censis. Per 671 mila stranieri, cure in Italia. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Con 296 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sui vaccini. Per il sì la maggioranza è Forza Italia, per il no Lega e Movimento 5 Stelle, astenuti Fratelli d'Italia. Il testo, fortemente voluto dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, introduce l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola. Saranno 10 somministrati in formulazione esavalente, poliomelite, tetano, difterite, epatite B, emofilus influenzae B e pertosse, e tetravalente, morbillo, parotite, rosolia e varicella. L'obbligatorietà per questi ultimi 4 è per 3 anni, con successiva verifica del raggiungimento della copertura di sicurezza. Per altri 4 vaccini, quelli contro meningococco B, C, pneumococco e rotavirus, è prevista un'offerta attiva e gratuita. In questo modo diventano quindi 14 i vaccini inseriti nel decreto. Calano poi le sanzioni per i genitori che non vaccinano i figli. Andranno infatti da 500 euro a 100 euro e saranno modulate in base alla gravità dell'infrazione. È caduto in riferimento al rischio di perdere la patria potestà. Per la prima volta i medici fiscali hanno un accordo collettivo nazionale, con una convenzione da stipulare tra l'Inps e i sindacati per rendere esecutivo il polo unico. Il governo ha fatto il suo dovere, ora tocca a noi, insieme all'istituto previdenziale, scrivere un accordo che ottimizzi il servizio per cui il polo è stato creato e che dia stabilità ai medici. Lo sottolinea il segretario nazionale del settore Inps della FIMG, Alfredo Petrone, commentando l'atto di indirizzo per i medici che prevede un polo unico per le visite sulle essenze per malattia, nell'ambito della riforma del sistema delle visite malattia. Duplice l'obiettivo, ottimizzare il servizio rendendo efficiente il controllo sui lavoratori in malattia, magari riducendo anche i costi del servizio stesso, che non significa ridurre compensi ai medici, e ridare serenità ai medici attraverso la stabilità di incarico, con tutele che li accompagnino all'età pensionabile, equiparabili a quelle del Servizio Sanitario Nazionale. L'impegno per il medico fiscale dovrà essere a tempo pieno, per far fronte a tutte le richieste che arriveranno dalla pubblica amministrazione. Le modalità, conclude Petrone, dovranno essere definite nella Convenzione. Passi avanti la ricerca verso i primi esseri umani con un DNA su misura. I ricercatori statunitensi hanno modificato il DNA di un gran numero di embrioni monocellulari con la tecnica di editing genetico CRISPR. Il primo tentativo in assoluto di questo tipo è stato effettuato due anni fa in Cina. Gli americani avrebbero corretto in modo sicuro ed efficace, con le forbici genetiche, gli errori del DNA presenti nel seme paterno che causano malattie ereditarie. Anche se a nessuno degli embrioni OMG è stato permesso di svilupparsi per più di un paio di giorni e non c'era l'intenzione di impiantarli in una donna, questo esperimento ambisce a diventare una pietra miliare sul cammino verso la nascita del primo essere umano geneticamente modificato. Ma quale scopo? L'intenzione degli scienziati è quella di dimostrare che è possibile eliminare o correggere i geni che causano malattie ereditarie come la beta-talassemia prima della nascita. Il processo è chiamato ingegneria germinale, perché ogni bambino geneticamente modificato passerebbe poi queste modifiche alle generazioni successive attraverso le proprie cellule germinali, ovuli e sperma. Con il decreto sull'obbligatorietà si è parlato moltissimo di vaccini, dei loro effetti positivi e dei presunti effetti collaterali, con proteste portate in piazza e sui social dai Novax. Per i medici hanno rivoluzionato la salute, eppure continua ad esserci molta diffidenza sulla loro sicurezza. Ma perché? Innanzitutto credo che bisogna ricominciare a fidarsi delle istituzioni e degli organismi deputati a questo compito, che sia quello proprio di certificare la sicurezza dei farmaci e dei vaccini. E noi siamo un'agenzia deputata a questo. Il nostro compito è proprio quello di verificare che non solo i componenti di un vaccino, ma anche l'utilizzo di un vaccino a breve o a lungo termine non siano mai dannosi. Il compito che abbiamo lo condividiamo con altre istituzioni internazionali, quindi tutte le nostre informazioni, le notizie che noi riceviamo sul nostro territorio sono condivise con autorità europee e a livello di un network mondiale. E viceversa, quindi quello che avviene in altri paesi lo riceviamo noi. Quest'insieme di informazioni sono poi studiate e elaborate per poter garantire al meglio la sicurezza di questi medicinali e dei vaccini. Per questa ragione ritengo di poter dire che l'uso dei vaccini è sicuro. È sicuro perché il numero di soggetti che viene vaccinato al mondo è talmente ampio da non generare dei segnali di preoccupazione. Ma qual è la velocità di reazione dell'agenzia in caso si verificasse qualche problema? La velocità è immediata, perché ci sono dei meccanismi tali di rapid alert che innescano la circolazione di informazioni di allerta nel giro di 24 ore. Quindi gli italiani possono stare tranquilli? Assolutamente sì. Continua a crescere la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel 2016 è arrivata a 37,3 miliardi di euro, sborsati in grandissima parte direttamente dalle famiglie. D'altra parte la spesa pubblica in rapporto al PIL, pari in Italia al 6,8%, rimane al di sotto di altri grandi paesi europei, come la Francia, 8,6% e la Germania, 9%. Non solo, è salito a 12,2 milioni il numero di persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche, ben 1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente. Questo è il quadro tracciato dal settimo rapporto RBM-Census sulla sanità pubblica, privata e intermediata, presentato in occasione del Welfare Day 2017, con il patrocinio del Ministero della Salute. Dati che però non convincono lo stesso Ministero. Secondo il rapporto Istat 2017, la quota di persone che ha rinunciato a una visita specialistica negli ultimi 12 mesi, perché troppo costosa, è pari al 6,5% della popolazione, 3,9 milioni di persone. Per il Ministero della Salute il dato di 12,2 milioni del rapporto Censis sarebbe una mera proiezione in valori assoluti dei risultati di un'indagine campionaria su 1.000 cittadini, ai quali è stato chiesto se nel corso dell'anno avessero rinunciato o rinviato ad almeno una prestazione sanitaria, senza però specificarne tipologia ed effettiva urgenza. Mentre il rapporto annuale Istat si basa su un campione di circa 29.000 famiglie, per un totale di quasi 70.000 individui. C'è chi viaggia spinto dalla voglia di arte e cultura e chi sceglie una meta non per i musei, ma per le cure migliori. C'è chi ha tratto dalla possibilità di trovare trattamenti low cost, già che c'è non si nega un tour fra le bellezze del luogo e c'è il viaggiatore che per necessità deve usufruire della sanità di un altro paese. Accanto a chi ha fatto la valigia già da tempo e vive e si cura nella sua nuova città di residenza. Comunque la si metta il fattore salute ha un suo valore negli spostamenti che ogni giorno si consumano nel mondo. E a voler guardare il fenomeno dall'Italia si stima siano circa 671.000 i pazienti stranieri che si curano nelle strutture del bel paese. È uno dei dati diffusi a Milano in occasione di Intercare, prima fiera trecolore dedicata al turismo sanitario internazionale. Donate il sangue prima di andare in vacanza. Gli ospedali non chiudono mai per ferie e anche in pieno agosto si fanno interventi che richiedono una grande quantità di sangue. È l'appello lanciato dall'assessore al diritto alla salute della regione toscana, Stefania Saccardi, dopo l'allarme del Centro Nazionale Sangue per la carenza di sangue in tutte le regioni. La piattaforma di e-commerce più nota al mondo lavora in segreto sulla salute. Amazon ha avviato infatti un progetto ombra dedicato a studiare nuove opportunità nel campo della medicina, dai dati sanitari alla telemedicina. A raccontarlo è la CNBC, che spiega come il team sia stato battezzato 1492, l'anno della scoperta dell'America. Si dicono soddisfatti i vertici FIMG, FIMP e Sumai per il lavoro svolto dal presidente del comitato di settore Massimo Garavaglia, che raccogliendo l'invito del ministro Lorenzin ha provveduto all'aggiornamento dell'atto di indirizzo per il rinnovo della medicina convenzionata. Un risultato reso possibile anche dal favorevole clima di dialogo con i rappresentanti delle regioni per realizzare insieme una sorta di unità di crisi che permetta di affrontare gli impegni dei prossimi mesi, dalla finanziaria al Fondo Sanitario Nazionale, cominciando però, già dopo la pausa estiva, con ulteriori approfondimenti sul piano nazionale cronicità. Dalla natura un nuovo strumento high-tech per i medici. Il muco colloso delle lumache ha ispirato infatti un nuovo tipo di adesivo, una biocolla incredibilmente forte, che funziona anche sulle superfici umide e promette di trasformare la medicina. Ne sono convinti gli scienziali dell'Università di Harvard, che hanno usato la biocolla per chiudere un buco nel cuore dei maiali. La dieta mediterranea fa bene al cuore, ma se partendo dalla popolazione generale si fa uno zoom, emerge che il cuore fortunato è quello dei ricchi e dei ben istruiti, mentre non ha nessun beneficio reale sui meno avvantaggiati. È l'amara scoperta che arriva dall'Italia, e più precisamente da uno studio condotto da scienziati dell'Istituto Neuromed di Pozzilli, su oltre 18.000 persone reclutate all'interno del noto studio Moli-Sani. Un progetto partito nel marzo 2005 che ha trasformato il Molise in un grande laboratorio a cielo aperto, coinvolgendo circa 25.000 abitanti. Obiettivo? Fotografare i fattori genetici e ambientali correlati a patologie come i tumori e le malattie cardiovascolari e degenerative. 8 italiani su 10 sono convinti di avere uno stile di vita sano, ma alla prova dei fatti per molti di loro non è davvero così, e le conseguenze sono pressione alta, abuso di alcol e di sigarette. È la fotografia che emerge dall'analisi dei dati dello Street Health Tour della Fondazione Ania, che ha coinvolto 800 persone. La manifestazione itinerante che è partita da Roma lo scorso 5 luglio, ha toccato nove località turistiche e balneari in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Toscana. A ogni tappa è stato allestito un track, con postazioni per check-up gratuiti di vista, udito, riflessi, pressione arteriosa, funzioni cardiache e livelli di monossido nei polmoni. Non bastano i 6.105 contratti di formazione medica specialistica finanziati dallo Stato, previsti dal decreto firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, e che ora dovrà passare al vaglio del MIUR e del MEF. L'auspicio della Fnonceo è che i numeri possono essere aumentati. Secondo le stime, infatti, occorrerebbero almeno mille contratti di formazione in più per non trovarsi nei prossimi dieci anni senza un ricambio generazionale di camici bianchi specializzati. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute-dncronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!